Carissimi amici, benvenuti a un nuovo video di Mauro Tornitore. In questo video vorrei farvi vedere come riparo questo calice di cui si è rotto il gambo con una sottampella di legno, un supporto di legno fatto al torre. Ci vediamo alla fine del video, buon divertimento, a dopo. Utilizzo questo pezzo avanzato da un lavoro precedente di Venge e di quest'altro legno chiaro che non ricordo cosa fosse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.